Se fosse amante dell'estate, sia che piacere l'allegria, al bagno a roscio per l'reno, sopra i tuoi del resto gli amici, tipo pieno. Passiamo un siroco e un po' sulle onde del mare, Buongiorno. La squadra Cani Sciolti presenta un spettacolo di trottole, giochi antichi in questa era moderna. Mi sembra che sia uno spettacolo un po' in decadenza. Adesso si sta un po' rifacendo, mi sembra che lo spettacolo va a livello normale, una grande frustrata eccezionale. Seggio si cementa in un altro spettacolo. La squadra Cani Sciolti 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 presenta un spettacolo di trottole, giochi antichi in questo momento facciamo vedere il grande ragno. Ringraziamo la Villa Ragno perché ci ha offerto questo grande spettacolo. Vogliamo inquadrare?